Allora, continuiamo con l'intervento di nostra amica Alessandra. Vi va a parlare del tiro a segno, forse ci ritroviamo sulle lotterie. Nel trionfo di Venezia, in Palazzo Ducale, nella sala del maggior consiglio del Veronese, la città, un'altero-pulenta signora, incoronata e circondata ad onore, pace e felicità, al cospetto di tutta la società veneziana sorvegliata da armati a cavallo. Venezia è rappresentata come protettrice delle arti, dei deboli e della pace, ispirata dalle più grandi virtù. L'opera fa riferimento al contesto sociale e politico veneziano e si colloca sullo sfondo di un secolo, l'opera del 1585, di ricerca e affermazioni di grandi ideali, di nuovi equilibri e assestamenti europei che chiamarono spesso in causa l'uso della forza militare. Si potrebbe dire anche, sollecitati dalla grande tela e sostenuti dalle riflessioni storico-politiche del tempo, che la pace e la difesa di uno Stato non potevano prescindere dalla forza delle armi o, se si vuole, e cito, da un rispettabile apparato difensivo. Lo era pure per Venezia, che aveva puntato sempre anche su altro. Il XV e XVI secolo corrisposero anche per Venezia a un periodo di insenza iniziativa militare, vicende accompagnate da evoluzioni nel potenziale bellico-veneziani che trovano paralleli nel più vasto panorama italiano ed europeo. Novità e miglioramenti fecero, peraltro, avvertire sempre più la questione dell'addestramento alle armi. Questione, peraltro, e ciò che qui interessa, che porta direttamente a una delle finalità maggiormente perseguite e resistenti del sistema ludico d'antico regime, o di buona parte di esso, alla finalità appunto addestrattiva, riconosciuta oggi come allora, a molti giochi e pratiche del tempo. Penso ai poli opposti, per contesto, partecipazioni, atteggiamenti nei loro riguardi della cultura dominante, scelte disciplinatrici ed altro, per esempio ai tornei o alle pugne cittadine, le cosiddette battaglioni. Il tiro a segno, in particolare, forse meglio di tanti altri, ben rappresenta questo intimo nesso fra gioco e addestramento, riferendosi qui a una pratica variamente connotata, a seconda dell'arma che si utilizzava, per andare a bersaglio, attestata geograficamente ad ampio raggio, non solo in Italia, ovviamente, e su un lungo periodo, con sviluppi cinquecenteschi. Gli antecedenti medievali. Il tiro a segno, in età medievale, fu praticato con le armi da tiro, che decisero più volte l'esito di assedie e battaglie, arco e poi balestra. Quest'ultima, nel corso del Trecento, aveva già sostituito l'arco, seppure non dappertutto e nello stesso tempo. Le produzioni statutarie dei comuni italiani degli ultimi secoli dell'età di mezzo spesso, infatti, li accomunano ancora nel Cinquecento inoltrato, insieme alle prime armi da fuoco. Le norme più antiche individuano nel quotidiano un uso pressoché indiscriminato di tali armi, che vediamo comparire anche nei centri abitati, in pubblica piazza o strada, in luoghi sospetti, perfino all'interno sulle scale di una chiesa o in taverna, in mano ai minori, e poi per gioco di porto, nella cattura di uccelli, ma anche per più comuni atti vandalici o più pericolose azioni di disturbo della quiete sociale. Sempre in bilico si intuisce fra gioco, esercizio e qualcos'altro. I primi interventi legislativi, perciò, tesero ad arginare tale uso, vietandolo incivitate et percivitatem, per evitare soprattutto incidenti, noxia alicui, o che si ricorresse ad arche e balestre, malo o animo. L'azione di contenimento della pratica, come per gli altri giochi, si precisò col tempo. Fu soprattutto lo strumento della deroga a delimitarne i confini come attività ludico-addestrativa. La deroga scattava anzitutto perché il tiro a segno fu avvertito all'opposto del ludus perditionis, l'azzardo, nonostante nel corso del 300 potesse essere interessato da scommesse, denari o posti in natura. Una missione un po' pericolosa, ma che avrebbe funto da incentivo all'esercizio. Molto spesso si trattava di deroghe sottintese, in tutti quei casi, per esempio, in cui si evitava di balistare, senza altra precisazione, incivitate. Si può supporre che Extra, come sarebbe stato poi chiarito invece, non corportasse alcun problema. Le ambiguità, i silenzi statutari, se notato tante volte, potevano senz'altro equivalere ad altrettanti ammissioni. Progressivamente la deroga implicò il crescente interesse e intervento pubblici. Anzitutto quando si consentì impune ludere et sa exercere soltanto a chi avesse ricevuto licenziam dall'autorità competente o ancora soltanto in locis deputatis, stabiliti per legge, confinando così tiratori extra civitatem o rastellum, fuori porta, o ancora soltanto ad brisalium vercertum signum, messo a disposizione dei balistratores dalle autorità del luogo, per eos deputatum. L'interesse e l'intervento pubblici erano stati catalizzati dal ruolo addestrativo riconosciuto al tiro a segno sul lungo periodo. Le guerre e le crisi politiche dell'Italia trecentesca spostarono sempre più in là i limiti imposti dalle deroghe alla pratica del tiro a segno. Progressivamente però l'interesse e l'inistiativa pubblici allo strumento della deroga preferirono in molti casi le istituzioni di gare a premi, assumendose nell'onere dell'organizzazione delle spese relative. Sembrò la soluzione più donia per promuovere, grazie anche all'incentivo economico, l'esercizio militare dei civili, purché validi e muniti di arma propria, un modo anche per avere un surplus di balestriere a costo zero. Le necessità e quindi le carenze addestrative furono bene in evidenza. Così ad Albenga, ancora inizio Cinquecento, nell'istituire per l'uso balistri gara de bersagium, si sottolineava appunto la necessità pro defensione civitatis avere juvines et homines aptos ad tale exercitium maxime tempore guerre. Con le gare pubbliche, l'addestramento al tiro con l'arco e la balestra era diventato anche un ludus, la cui naturale forza attrattiva avrebbero fornito uno stimolo in più all'esercizio obbligatorio delle armi. Ciò consentì di promuovere un esercizio di pubblica utilità. Quest'ultima, d'altra parte, attribuì alla pratica in sé un valore aggiunto, che ne avrebbe assicurato la sopravvivenza anche ben oltre l'età di mezzo. È quanto accadde anche a Venezia, dove è possibile seguire la continuità di tale pratica. Dalla fine del Duecento il Comune veneciarum aveva provveduto a istituire bersagli in diversi luoghi cittadini e a regolamentare così l'addestramento dei propri balestrieri, rendendo l'obbligatorio e precisando, soprattutto a partire dal 1318, le modalità di esercizio settimanali per tutti i cittadini maschi, compresi fra i 15 e i 35 anni, in grado di sostenere le spenserie della balestra. Modalità estese poi successivamente anche oltremare. I capi Contrada si occuparono dell'arruolamento e i capi Duodene, i drappelli dei coscritti separati, separando i nobili dai popolani invece, di portare i propri uomini al bersaglio, come del resto attestano i rispettivi capitolari. La divisione fra nobili e popolani in gruppi ben distinti faceva sì che a Venezia, almeno in parte, l'allenamento militare riproducesse gli sfaldamenti sociali conosciuti nelle altre città. Per tutto il corso del Trecento i Dieci, a più riprese, si richiamarono all'obbligo del Ballestarius Ludus per contratas o decreterono sulla sorveglianza e la buona tenuta dei bersagli. Determinante per l'intervento pubblico era stata la particolare congiuntuna in cui si era trovato il comune lagunare, con comitanza cioè con lo scontro veneto-genovese e la guerra di Ferrara che videro fra fine Duecento e inizio Trecento Venezia in grave difficoltà subire delle pesanti sconfitte attribuite proprio all'inferiorità dei propri tiratori. In seguito, perdurando gli impegni militari e la necessità di contare su ballestridi esperti, si è decise di dare ulteriore impulso all'addestramento introducendo gare di tiro. La svolta sembra avvenisse nel 1374. In quell'anno, comunque, il Consiglio dei Dieci istituì, finanziandoli, due pali delle balestre sorvegliato da un consigliere educale, tre nobili e un capo dei Dieci che i magistrati, nel corso del tempo, per contrastare il calo dei partecipanti, vollero mantenere aperti a tutti e rendere più allettanti, aumentando e arricchendo i premi a disposizione. Nelle intenzioni dei Dieci, la gioventù cittadina insieme avrebbe dovuto gareggiare, ignorando le antiche divisioni che regolavano l'addestramento militare. Che alle autorità premesse incentivare tale competizione in cui la finalità utilitaristica era stata chiaramente segnalata, sarebbe stato confermato dall'istituzione di un terzo palio per San Bartolomeo nel 1490. Fra 4 e 500 a Venezia, se detto, agli accresciuti sforzi bellici si associarono riforme militari. Si è detto anche delle gare cittadine per esercitare i veneziani all'uso della balesta, soprattutto allo scopo di poterli imbarcare sulle galere e le navi da guerra o da mercato. Ancora, per tutto il corso del Quattrocento, il controllo centrale sull'addestramento dell'esercito mancò, nonostante qualche episodico provvedimento in tal senso. Nessun interesse ancora per l'addestramento quotidiano, per le compagnie responsabili erano ancora i condottieri, e lo sarebbero stati ancora nel secolo successivo, durante il quale i rettori iniziarono però ad assumere funzioni di controllo. Un ruolo importante nell'addestramento, per esempio, della cavalleria pesante ebbe la pratica informale dei tornei e delle Quintane. Le stesse ispezioni, parate formali, potevano tradursi in occasione di esercitazione. Fu la progressiva affermazione delle armi da fuoco e dell'artiglieria a produrre interventi sempre più convinti di controllo e regolamentazione da parte dell'autorità centrale nei riguardi dell'addestramento militare. Nonostante però l'avvio nel 1490 della preparazione formale e centralizzata degli schioppettieri appartenenti alla milizia scelta, con l'invio in terraferma di maestri dell'arte che avevano il compito specifico di esercitare all'uso delle schioppe due uomini per villaggio, competizioni e premi ebbero un ruolo di primo piano nella strutturazione di tale addestramento. I rettori di terraferma, infatti, nello stesso anno ebbero l'incarico di istituire gare semestrali che promuovessero l'interesse per la pratica dello schioppo. Il quadro delle competizioni di tiro a segna a Venezia ai territori del dominio nel corso del Cinquecento non è ancora ben chiarito. Tuttavia, sono possibili alcune prime considerazioni. La compresenza sul campo di battaglia delle armi da tiro e da fuoco comportò anche la compresenza di gare riservate ad entrambe. Nel 1506 il Consiglio dei Dieci replicava quanto stabilito qualche anno prima in terraferma, istituendo anche in lagune gare di schioppo che si aggiungevano a quelle con la balestra, giustificandosi col fatto che non è al presente arma più offensibile né di maggior terror che gli schiopetti, li quali, se sono ora, in grande use, universali ter da tutti. Nel 1518, tuttavia, sempre dieci dispodevano ancora per gare di arco, balestra e schioppetto. Era, come si diceva, riflesso di quel che stava avvenendo fuori dal campo di gara e le armi da fuoco stavano comunque surclassando la balestra. Anche questo ulteriore passaggio si riflette sulle competizioni veneziane al Lido. Probabilmente nel 1525 si aggiungevano i due pali annuali del falconetto, sarebbero diventati nel corso del secolo quelli di maggiore importanza, come affermato dei Dieci nel 1535, tanto che i provvedimenti per tali competizioni potevano ben essere estesi anche alle altre. Nel 1541, ad esempio, i premi per i pali dello schioppetto furono adeguati a quelli per il palio del falconetto, in danari contadi. Nel 1569, ancora una novità, i Dieci constatavano che gli alchibusoni da posta, un'altra arma, ma si erano rivelati la miglior arma per difesa e offesa e quindi ne erano state provviste tutte le fortezze dello Stato Veneto. Intervento, aggiungevano però i Dieci, del tutto superfluo quando non si avesse persone che li sapessero adoperare, cosa che non si può fare senza l'esercizio di essi. Con questo significativo preambolo istituivano nuove competizioni. Così, in questa città, come in tutte le città e terre nostre, ove si tirano pali di falconetto, nell'avvenire se ne debbano tirar di arco busone. Riservate, nel caso specifico veneziani, agli iscritti alla scuola dei bombardieri, costituita da appartenenti ad arti e mestieri riuniti per scopi militari e alle maestranze dell'arsenale. Nel frattempo, nel palio delle balestre a Venezia, si perdono le tracce. Poco prima, si è detto, si registrava la riluttanza dei nobili a svolgere il loro tradizionale ruolo di controllo, allo svuotamento dello spirito di coesione che sembrava unire i giovani concorrenti e la progressiva trasformazione del concorso in competizione per pochi campioni. Nel 1574 sappiamo che si svolsero il palio del falconetto, dello schioppetto e dell'archibusone d'apposta, gli stessi poi richiamati fino al 1630. Nessun cenno, invece, per quello con la balestra. Le competizioni veneziane, dunque, diventarono banchi di prova per le nuove armi, organizzati per un po' in concomitanza con i concorsi della vecchia ma ancora utile balestra. Le norme dei 10 si moltiplicarono a regolamentare per la città e il territorio l'istituzione e lo svolgimento delle diverse manifestazioni, in equilibrio sempre tra necessità destrative e di controllo della spesa pubblica. La funzione destrativa e militare attribuita dalla Repubblica a queste gare è indubbia, anzitutto, nelle ragioni con cui si istituivano i nuovi pali, controllati, fra l'altro, dal provveditore all'artiglieria. Conosciamo i regolamenti, precisi su tempi e luoghi di svolgimento, ufficiali competenti, regole di partecipazione, ma precisi anche sulle modalità di tiro che doveva mantenersi all'uso militare. Con la comparsa delle armi da fuoco e in concomitanza con la fondazione della Scuola dei Bombardieri nel 1500, le gare furono a pannaggio loro e dei lavoratori dell'arsenale e successivamente anche dei bombardieri di terraferma. Si trattava di incontri annuali che potevano dare impulso alle esercitazioni in cui si dedicavano con maggior frequenza i bombardieri veneziani, per esempio, a Sant'Alvise. I pali del Lido erano mostre per valutare le qualità della milizia veneziana, ma anche, bisognerà informare i rettori quando le gare si aprirono ai tiratori terrafermieri, per, e cito, saper specialmente il nome di tutti quei che servono nella milizia del Principe, occasioni dunque per rinnovare i legami intanto militari fra il centro e le diverse periferie dello Stato. Il tiro a segno, tuttavia, non può definirsi una pratica paramilitare to cure. Le competizioni veneziane con la balestra potevano essere senz'altro occasione per promuovere l'unione fra i partecipanti. A Mattea Quattrocento gli ufficiali organizzavano a spese pubbliche come lo chiamano un pasto che doveva avere lo scopo, fra l'altro, di creare coesione. Al polo opposto anche occasione per disturbare o dopporsi, favorita pure dal concorso di estranea la gara. Già al momento della loro istituzione i signori di notti, capi sestieri e capitani postarum dovevano ritrovarsi al Lido per evitare ogni rumor vel briga. Ancora, una festa come stata definita che faceva registrare un cronico deficit nonostante gli interventi dei dieci contro l'aumento delle spese. Nello stesso periodo del resto diversi sono gli esempi di spettacolarizzazione del concorso con la bolestra con il suo inserimento nelle feste patronali dell'Italia di comune all'interno di un fitto programma di ludi, musiche, cerimonie religiosi, incontri conviviali, fra l'altro in concomitanza con lento ma progressivo ecclissarsi della potenziale militare dell'arma. Analogamente può intendersi dei raduni cinquecenteschi. Anche per il palio del Falconetto e Schioppetto era previsto un pasto per il quale erano stanziati 15 ducati e di cui si sarebbero occupati gli ufficiali alle rasonvecchie, responsabili fra l'altro delle spese per feste cerimonie pubbliche. Sicuramente sappiamo che i partecipanti che si trattenevano in laguna più giorni venivano approvvigionati di vino. Vi assisteva un pubblico che si cercò di tenere distante dal campo di tiro per evitare incidenti. All'aspetto più propriamente festoso e conviviale si aggiungeva l'urgenza agonistica non disgiunta dall'interesse economico. In molte coesioni i deputati al palio l'ufficio competente fu chiamato a decidere sulla regolarità di una vittoria o in casi dubbi a chi si dovesse assegnare il premio. Non mancò neppure la possibilità di rivendicare un'appartenenza. I deputati o i dieci furono più volte chiamati a decidere dai partecipanti stessi sulla opportunità o meno di far gareggiare coloro che non erano iscritti alle scuole dei bombardieri o non appartenevano alle maestranze dell'arsenale. Il ruolo e le ricadute di queste manifestazioni veneziane al di là della loro funzione addestrativa resta però una questione ancora tutta da chiarire è comeppure se i gruppi che vi prendevano parte bombardieri maestranze dell'arsenale svolgessero attività sociali con lo scopo di risentare legami mostrare status esibire gerarchie o esprimessero anch'essi un linguaggio della fratellanza e della conviabilità come è emerso per esempio per gli aceri e i balesteri fiamminghi attivi fra XIV e XVI secolo. Analogo le sollecitazioni di chiarimento dalla terraferma nel 1494 contestualmente con quanto stava avvenendo in Laguna anche in terraferma fu istituito il palio delle balestre per San Bartolomeo nonostante qualche anno prima se detto fosse combinato l'obbligo per i rettori di terraferma di istituire gare semestrali di tiro allo schioppo l'arma che stava riscuotendo favori. È possibile che le competizioni con la balestra già in crisi a Venezia non riscuotessero neppure in periferia grande successo troppo onerose o cadessero presso in disuzio superate da altro se nel corso del Cinquecento si fa giurare ai rettori di terraferma l'obbligo che i pali i aciantur cum balistis vera arcubus contrastando così una non meglio chiarita usanza invece di giocarli cum taxillis ad adi. altrove invece i pali con la balestra continuarono e ben oltre il Cinquecento non distante da Udine a Cividale e San Daniele del Friuli si disputavano pali della balestra in occasione dei rispettivi patroni San Donato e San Daniele noti le regole i premi i nomi dei partecipanti alle competizioni anno per anno insieme alla balestra compare talora anche lo schioppo o l'archibugio e talora si tennero entrambe le competizioni insieme non si nega al palio della balestra una funzione addestrattiva ma si avverte anche d'altro anzitutto si scrive a Cividale del loro serve per mostrare la virtù dei partecipanti ogni comunità pubblica i bandi di gara dell'altra nel contempo però si scambiano reciproci e ossequiosi inviti alle rispettive solennità come sono ormai avvertite durante le quali dicono si giocherà il palio a balestra nel 1566 ad esempio all'università dei balestrieri di Cividale in uno scambio si dice di cortesie reciproche invita i balestrieri di San Daniele per la festa di San Donato a venire ad onorar la nostra festa che ne sarà carissimo assicurando di far il medesimo la solennità di San Daniele vostro e gli esempi potrebbero continuare un paio di decenni più tardi e qualcosa sembra davvero che ha cambiato almeno nella percezione che i contemporanei hanno della manifestazione solito invito di Cividale con la consueta richiesta di far intender a San Daniele l'imminente svolgimento del palio un preambolo più ampio e generale del solito che ricorda la buona antichità durante il tempo cinquecento compagnie che però hanno diciamo come vedremo di stampo boccaccesco hanno una proprio precisa essenza ludica cioè sono dedicate sostanzialmente a tutte attività che hanno un qualsiasi contenuto di divertimento di aspetti giocosi sono protagonisti praticamente di tutte le principali attività cerimoniali festive anche di giochi tra l'altro d'acqua e di piazza a Venezia fra quattro e cinquecento e tra l'altro si tratta di un modello associazionistico giovanile e adolescenziale per essere più precisi che ha un grandissimo successo in Europa forse a Venezia arriva anche relativamente tardi rispetto alle altre realtà in particolare a Firenze e quindi posso dire con sicurezza avendo poi del resto anche studiato io stesso in passato la realtà fiorentina che si tratta di un si tratta di un modello associazionistico e che produce delle attività ludiche che sono assolutamente riscontrabili in moltissime altre realtà molte cose di cui dirò adesso che si verificano a Venezia in realtà si ritrovano tali e quali in tutta Europa sostanzialmente senza altro nelle grandi città italiane almeno quelle del centro Italia ma ho trovato molti riscontri anche per esempio nel nord Europa e questo verrà dimostrato dalle fonti visuali perché noi abbiamo delle ottime fonti abbiamo tantissime fonti su queste compagnie giovanili veneziane però ce ne mancano quelle specifiche sui banchetti però io sono in grado di utilizzare parecchie fonti visuali di altre realtà esattamente perché i meccanismi si riproducono userò spesso fonti visuali non veneziane però ritrovo in queste fonti visuali un'ottima descrizione di quello che avveniva a Venezia ecco intanto cominciamo comincerei con due premesse molto veloci verifichiamo l'ora come ho detto si tratta di un periodo fra metà 400 e metà 500 io partirò dalla seconda metà del 400 perché i fenomeni dei banchetti che si affermano in questo periodo per le compagnie veneziane e anche per quelle europee sono poi fenomeni che si estendono largamente almeno fino a metà 500 in alcuni casi anche oltre quindi il 500 viene dominato da fenomeni che nascono nel secolo precedente insomma un po' come la pittura che arriva a Veronese e comincia poi in realtà prima a Venezia con Giovanni Bellini ecco gruppi di adolescenti di stampo boccaccesco già detto attività festive giocose cerimoniali li vediamo descritti da alcuni stupendi quadri di Vittore Carpaccio la loro età io parlo spesso di adolescenza più che di gioventù perché la loro età è in generale fra i 16 e i 25 anni siamo in grado di determinare l'età grazie alle ottime fonti dell'aristocrazia che diciamo descrivono l'aristocrazia presenta l'aristocrazia veneziana e diciamo è l'età molto importante che precede l'ingresso precede accompagna i primissimi anni dell'attività politica e quindi queste compagnie di giovani appunto per chi come voi non fosse familiare di queste cose basta ricordare appunto le compagnie di stampo sostanzialmente boccaccesco fiorentine già due trecentesche sono compagnie che sono state definite come compagnie di una sorta di rito di passaggio fra l'età diciamo della fanciullezza e l'età della maturità politica e senza dubbio questo è verissimo per le compagnie veneziane appunto molti di loro addirittura subito dopo la fine di questa esperienza della compagnia o durante le esperienze di queste compagnie iniziano incarichi pubblici incarichi politici ecco durano fino ad otto anni partecipano come ho detto a moltissimi eventi spesso vengono anche invitati anche a giochi cavallereschi per esempio a giochi sull'acqua spettacoli teatrali di ogni tipo come dirò vengono certe volte addirittura utilizzate dal governo veneziano nelle attività cerimoniali per esempio di accoglienza dei grandi ospiti stranieri dei più prestigiosi ospiti stranieri perché questo è un altro punto fondamentale queste compagnie della calza non appartengono come del resto in altre realtà soltanto alla nobiltà semplicemente ma appartengono al ceto proprio al ceto interno alla nobiltà potremmo dire al settore interno della nobiltà veneziana più ricco più abbiente spesso vengono dalle famiglie cosiddette dogali cioè che esprimono il doge di Venezia il supremo capo della serenissima e anche gli ambasciatori esterni che descrivono copiosamente le attività proprio perché hanno a che fare parecchio con questi figli diciamo dell'élite nell'élite veneziana ne descrivono come estremamente potenti estremamente ricchi estremamente influenti anche seppur giovani e tra l'altro sono proprio questi giovani che certe volte stabiliscono dei rapporti privilegiati con le famiglie principesche italiane in visita come gli Ea gli Este e i Montefeltro e gli Sforza e i Gonzaga eccetera poi diciamo un legame che certe volte può avere addirittura nel futuro degli sviluppi di tipo diplomatico ecco quindi non semplicemente giovani della nobiltà ma giovani appartenenti allo strato più alto si chiamano compagnie della calza come potete immaginare come si vede abbiamo visto dalle fonti precedenti dalle immagini precedenti qua le vediamo in particolare si definiscono loro già dalle fonti cominciano già a seconda metà del 400 perché hanno proprio questa tipica calza estremamente aderente tipica appunto della gioventù europea è una calza diffusissima come vedete colorata molto spesso con emblemi o delle partizioni di colore che hanno un preciso significato calze che vengono da una rivoluzione vestiaria della metà del 300 nel periodo dopo la peste nera vedete l'accorciamento dei vestiti che si verifica in quel periodo queste sono fonti trecentesche inglesi e italiane e che poi hanno una grandissima diffusione lo vediamo qua ho messo Francia due fronti francesi una fonte invece del nord Europa Fiamminga e poi naturalmente Lorenzo il Magnifico con i suoi compagni nel Palazzo Medici Riccardi nel corteo dei Magi è con un grandissimo successo internazionale della calza che viene naturalmente adottata come livrea cioè come senso di appartenenza ad un gruppo ad una società viene donata come regalo dal signore ai propri famigli i compagni della calza si comportano nello stesso modo cioè donano ai propri famigli le calze colorate così che i famigli vengono identificati come parte del gruppo quindi la calza deve assolutamente essere identificata così come gli emblemi che certe volte accompagnano questo vestito come è una livrea un simbolo di appartenenza un simbolo di identità ecco naturalmente qua ho portato anche vari esempi i primi esempi che abbiamo del Veneto ma diciamo non c'è tempo per soffermarci su queste cose ecco questi sono i primissimi esempi le maggiori fonti visuali il Porto Buffolet qua in alto in alto a sinistra poi il Domenico Veneziano un'altra adorazione dei Magi e poi Vittore Carpaccio che li descrive molto bene a partire dalla fine del Quattrocento e senz'altro dal Cinquecento in poi dalla seconda metà del Quattrocento fino alla prima metà del Cinquecento abbiamo il fiorire di queste compagnie procediamo però un po' velocemente le compagnie sono naturalmente organizzatrici di grandi sono grandi organizzatrici sia di banchetti pubblici all'interno della ritualità di Stato soprattutto come ho detto nelle Venenze il passaggio in laguna di prestigiosi ospiti stranieri sia di banchetti privati spesso notturni il concetto di gioco che qui si seguirà non è quello quindi di attività giocose con regole come abbiamo visto alcune volte ma piuttosto di un intenso di un vero intenso spirito ludico che ispira molte componenti dell'incontro conviviale come dell'estero ispira ogni attività della calza e dei giovani in generale la grande ricerca di lucidità di ludicità scusate nel banchetto aiuta però il dispiegarsi di rilevanze stanze politiche sociali e culturali per esempio a Venezia grazie a banchetti e colazioni costumi e avvenimenti tipici della cultura aristocratica di stampo cortese come già avviene con la calza vengono introdotti quali l'adozione e lo spreco di lussiose vivande come lo zucchero l'avvento della commedia e altre forme spettacolari rinascimentali particolari linguaggi di gender e altro ancora e qui io cercherò di fare una carrellata di alcune attività a forte contenuto ludico che hanno però anche una fortissima rilevanza secondo me hanno come spesso il gioco nel senso sia politico che sociale che culturale partiamo velocemente dai banchetti privati farò una brevissima una brevissima parentesi che compaiono già nella prima manifestazione della compagnia della calza nel 1441 e poi già nella seconda metà del quattrocento sono molto diffusi se alla vigilia di carnevale il senato veneziano deve mettere un'importante legge sui convivi delle compagnie dei nostri giovani abentes o societates che sono convivi assai suntuosi e devono essere limitati perché comportano grossissime spese e si cerca di limitarne la quantità seguiranno parecchie altre leggi suntuare c'è una grandissima attenzione dello stato veneziano del senato e poi del consiglio dei dieci delle più grandi magistrature veneziane verso questi giovani che appunto sono come dire la golden youth di venezia e soprattutto sui loro banchetti come vedremo però le cene rimangono elementi fondamentali della calza se guardiamo la statuto dei modesti queste compagnie avevano certe volte uno statuto e avevano spesso anche un nome i modesti la compagnia dei modesti la prima compagnia nobiliare ad avere degli statuti indice regole minuziose per i banchetti l'obbligo per ogni compagno è di dare due cene in caso di sposalizio a tutta la compagnia una a casa propria l'altra a casa della sposa e questo offrire ai soci un convitto è obbligo ineludibile come si intende da un famoso episodio del 1508 che c'è narrato dal cronista Marin Sanudo Leonardo Grimani non è pagato il giusto disnar alla compagnia degli eterni allora i buffoni dei famosi buffoni veneziani Tagliacalza e Prestefano organizzano un saccheggio a casa sua un corteo diffamatorio rialto guidato da un gobbo famoso che partecipava alle feste e ai carnivali il gobbo Dandolo e alla fine poi si conclude tutto con la cena finale in osteria quindi la cena offerta ai membri è già di per se stesso il banchetto offerto ai membri già di per se stesso un obbligo come fin dai tempi di Boccaccio anche prima di Boccaccio per i membri della compagnia un altro problema che emerge tuttavia è che i banchetti dei compagni si estendono all'ambiente al dissuore delle compagnie e alimentano la possibilità di incontri politicamente rilevanti all'interno per esempio del vasto numero di provvedimenti suntuari del dicembre 1497 che riguarda le prove dell'età dei nobili il procacciamento dei voti dei consigli e i banchetti inuziali è una serie di provvedimenti molto importanti che cerca di definire con maggior precisione che cosa vuol dire essere nobili e non nobili di Venezia studioso americano Staley Conaschi ha parlato addirittura di terza serrata di terza chiusura della nobiltà veneziana per nei confronti di coloro non nobili colori che non potevano avere ingresso alla nobiltà con le compagnie della calza i loro banchetti banchetti notturni in particolare vengono citati che sono organizzati pare per celebrare coloro che hanno conseguito cariche pubbliche e quindi anche Marin Sanudo ci spiega che i calzaioli hanno ideato la malizia di prolungare i pranzi fino a notte per poi offrire delle colazioni il giorno dopo quindi allungare questi festeggiamenti notturni il più possibile e quindi il consiglio dei dieci è costretto a cercare di regolamentare questi banchetti ecco naturalmente questo come spesso le gisuntuarie non fermerà le compagnie della calza che continueranno a organizzare banchetti di grandissimo successo per tutto il periodo fino alla loro esistenza circa gli anni 60 del 500 ecco avevo portato qui un caso molto grosso nel 1524 in cui si festeggia un compagno della calza che ha vinto all'otto che distribuisce denaro pane fa addirittura un banchetto con i segretari della cancelleria ducale un altro istituto tra l'altro di non nobili ma di cittadini originari lo strato secondo nella gerarchia sociale veneziana che si sta affermando in questo periodo nella prima metà del 500 e che poi finisce per dare un enorme banchetto a 400 persone per dirvi come i banchetti della calza a partire dai 400 diventino dei fenomeni a grandissima partecipazione e questo mi serve per passare a quello che sono invece come dire ecco qua ho portato un esempio anche qui una fonte sulla destra in realtà di origine fiamminga che però mi sembra descriva bene il banchetto principesco che era il modello a cui si riferiscono i compagni della calza veneziana e il buffone veneziano che accompagnava questi spesso partecipava a questi banchetti che in questo caso punisce il membro che non ha offerto la cena i banchetti e le feste nuziali sono molto importanti anche queste ne parleremo ancora velocemente parliamo però delle banchetti pubblici che sono quelli dove più si esplica questa voglia ludica questo grande desiderio ludico delle compagnie della calza anche se come forse anche Gerardo Ottalli mi direbbe subito questa distinzione fra pubblico e privato per l'antico regime certe volte c'è un po' stretta insomma i compagni della calza come vedremo usano molto spesso in realtà questi spazi pubblici per i loro scopi di divertimento privato anzi le fonti Marinsa Nudo prima fra tutti e le collegi suntuari si lamentano moltissimo di questo uso pubblico in realtà a favore dei loro scopi privati quindi scusate questa distinzione un po' banale teniamola così un po' più sullo sfondo ecco uno dei primi casi documentati in dettaglio di questi grandi banchetti pubblici è di una colazione del gennaio 1475 offerto in maggior consiglio in onore di Sforza Maria Sforza fratello del duca di Milano e duca di Bari lui stesso grazie all'ambasciatore Mantovana abbiamo una straordinaria descrizione di questo banchetto e vediamo alcune caratteristiche dei banchetti pubblici o cerimoniali della calza Futu che si ripresenteranno in futuro ecco qua ho portato una rappresentazione sulla sinistra vedete un compagno della calza con la spiga sulla calza che è in compagnia di personaggi che sono chiaramente stranieri e quindi questo io di solito la uso come immagine di questa funzione cerimoniale nei confronti degli ospiti stranieri di prestigio che la compagnia della calza esercitava ecco lo vedete sull'estrema sinistra abbiamo ecco ottimo abbiamo un laser penso qual è se no qua ecco vedete qua si vede la freccia sì lo vedete qua ecco questo è un gruppo di stranieri ancora abbassiamo la luce ancora un po' abbassiamo ecco e qua naturalmente c'è invece una fonte di origine fiorentino una della bottega di Botticelli un banchetto dove vediamo rappresentati i classici servitori come avveniva anche a Firenze che servono con le calze a livrea e portano questi piatti no portano le vivande succulente che venivano servite in questo caso ripeto gennaio 1475 sala di maggior prestigio pubblico del governo di Venezia di Venezia in generale la sala del maggior consiglio che abbiamo visto prima viene da circa 200 ziovani politi tutti ben vestiti recamati con la calza alla livrea lo specifica proprio l'ambasciatore di Mantua portano dei ricchissimi artifici zuccherini delle sculture in zucchero un fenomeno molto interessante stranamente poco studiato che hanno innanzitutto delle simbologie diciamo relativa agli sforza e i visconti i bissoni computo in bocca per esempio e quindi appunto hanno lo scopo di celebrare la simbologia visconteo sforzesca gli sforzi naturalmente avevano adottato i simboli un simbolo visconteo come segno di continuità questi primi simboli vengono seguiti da un'intera rappresentazione molto interessante tutta in zucchero una carretta dove era suso uno bel castello con arme e devise dell'illustrissimo duca di Milano e conducta da quattro cavalli bianchi che pareano vivi ed ogni cosa nel zucchero cioè viene costruita un'intera carrozza con il castello del duca di Milano castello sforzesco con i cavalli tutto in zucchero primo punto sculture in zucchero ho trovato qualche fonte visuale non dell'epoca ma leggermente successiva una fonte veneziana di fine cinquecento qua qua si vede la scultura in zucchero di fronte al doge un'altra fonte veneziana settecentesca del Grevenbrock e le famose sculture zuccherine di Caterina di Svezia a Roma a metà seicento ecco alla fine dice l'ambasciatore tutte quelle aquile bissoni confetere confezioni tutti i dolci serviti più queste sculture cavalli carette castello fu e buttato zoso dal tribunale venivano costruiti questi tribunali in occasione di queste grandi feste soleri si dicono a Venezia e ogni cosa si spezzò e chi nipeglione ebbe non si poteria dire il grande tumulto e strida e rassuso essa sala ecco si verificano qua in questa festa due fenomeni tipici dei modi principeschi rinascimentali italiani ed europei comuni a tutta Europa primo la presentazione di queste grandi sculture in zucchero per i quali i veneziani tra l'altro erano avanguardia o scoperto come anche maestri in secondo luogo naturalmente con grande divertimento ma anche con un tipico sprezzo cortigiano il loro getto alla fine spezzare il getto e darli ai presenti e certe volte anche ai famigli e al popolo presente se in queste occasioni si tenevano pubblicamente in piazza è un fenomeno che preoccupa molto le autorità di Venezia i dolci naturalmente sono presenti in grandissima lo zucchero è una materia costosissima e viene naturalmente offerta in questi banchetti ai visitatori stranieri come simbolo di ospitalità e solo nel gennaio solo due anni prima nel gennaio 473 il senato aveva proprio legiferato sui pasti troppo costosi di nozze proprio di nozze di compagnie delle compagnie le aveva proibito l'uso di questi dolci in generale perché poi diceva questi dolci finiscono queste confezioni tutte tal confezione capitano in mano dei famiglie cioè c'era proprio questa tradizione alla fine dei pasti di darli con fare cortigiano al resto dei presenti e dei famigli e questo naturalmente viene considerato una questione di spreco e molte leggi suntuarie continueranno nel 76 un anno dopo l'avvenuta dello Sforza nell'84 poi nei modesti dell'87 nell'89 nel 504 nel 1509 nel 1512 eccetera però questo continuerà troviamo le sculture in zucchero presentate dai veneziani a Dan de Foix nel 1502 poi lanciate al popolo in piazza poi ancora nel 1530 in onore del duca di Milano vengono presentate in frate e vengono addirittura ammazzate due persone che cercano di impossessarsi di queste sculture in un grande clima di confusione eccetera e addirittura nel 1574 quando le compagnie sono scomparse troviamo questi fenomeni del dar la colazione in zucchero a sacco come dicono alla fonte nella venuta del futuro Enrico Di Valois che sta andando a prendere il titolo di Francia appunto a Parigi che passa da Venezia tornando da Polonia e quindi questi tipici modi grazie alla compagnia della calza sono diventati in realtà modi comuni della cerimonalità veneziana poi ci sono altri esempi adesso andrò veloce perché voglio fare altre cose per esempio il pavone che vediamo qui anche qui in una fonte vedete non di origine veneziana ma di origine francese il pavone viene rappresentato sia come volatile sia come per le sue carni le sue carni vengono mangiate distribuite agli ospiti della compagnia della calza in tutti i bacchetti più ricchi veneziani come anche questo simbolo di grande ricchezza e lusso tra l'altro mi è venuto in mente ieri il pappagallo che viene rappresentato così spesso dal nostro amico Paolo Veronese c'è una compagnia del pappagallo a Firenze una compagnia della calza al pappagallo quindi c'è questa circolazione di volatili come simboli proprio fra le compagnie giovanili e la grande rappresentazione pittorica ecco altri due elementi fondamentali di questi grandi sfoghi ludici e di divertimento di genere cortese della compagnia della calza il controllo dell'elemento femminile questo è una per esempio è una fonte di origine in realtà fiorentina è una miniatura di Apologno di Giovanni di metà del Quattrocento adesso Springfield nel Massachusetts questa invece è una sulla dall'altra parte una ceramica di origine veneziana sempre nel 1475 in questa grande festa è molto interessante l'ambasciatore dice che i compagni della calza prendono le donne le donne del patriziato veneziano vestite in modo estremamente lussuoso le conducono alla danza però poi dice conducono scusate le conducono soso dal tribunale da questi tribunali e poi le conducono a quelli che le volevano ballare cioè assegnano loro alle donne i ballerini e poi le riconducevano a sedere facendo poi alla fiata alcuni atti di amore in questo tempo non troppo onesti atti di amore non troppo onesti e maxime quelli che gli avevano interesse e qui abbiamo un altro aspetto ludico apparentemente ludico del ballo che in realtà ha grossi significati sia di gender che anche matrimoniali è il carnevale qua siamo in carnevale è il momento in cui si contraga cominciano a contrarre i matrimoni all'interno della nobiltà veneziana e quindi spiega quelle che l'interazione con le donne verso i quali i compagni da calza hanno particolare interesse ma secondo me c'è anche un preciso elemento di gender un tentativo da parte di questi giovani ricchi veneziani di controllare l'elemento femminile che gli viene anche assegnato ogni tanto ufficialmente dal governo che dice proprio nelle leggi di organizzazione dei cerimoniali chiede proprio a queste compagnie di organizzare le donne di portarle di accompagnarle in varie occasioni festive ci sono molti altri esempi naturalmente pensavo questo quando parlava Arcangeli sul capello il ballo del cappello verrà colpito proprio per questi ambiguità di gender da una legge insuntuale molto importante nel 1512 e alcuni altri balli francesi pieni di gesti lascivi ed amnabili e questo succedevano i luoghi pubblici e i compagni della calza nei protagonisti nel febbraio 1532 ci sono ancora insulti verso le donne dentro il palazzo ducale quindi sempre luoghi pubblici e quindi io ipotizzo una funzione allo stesso tempo degradante e disciplinatrice della donna da parte della compagnia della calza sapete che le donne come soprattutto le leggi suntuarie venivano descritte come an object of fear un oggetto di paura come per il loro soprattutto comportamento immodesto come ha scritto la Diane Owen Hughes poi l'ultimo aspetto velocemente poi arrivo alla conclusione è quello naturalmente degli aspetti teatrali è un aspetto conosciuto benissimo però anche qui le compagnie della calza hanno usano questa grande enfasi ludica per utilizzare tutte le possibili forme spettacolari disponibili dalle momarie da forme pre-nascimentali teatrali semi-improvvisate che però raggiungono raffinatezze notevole come per esempio sempre per la per 502 per Anne de Foix viene rappresentato la saga troiana di Elena e Paride con un riferimento alla letteratura encomiastica veneziana su possibili origini troiane di Venezia quindi anche le momarie possono raggiungere livelli di grande sofisticchiatezza però nelle feste pubbliche private delle veneziane viene introdotta poi la commedia Plautina che vediamo qua sulla destra e naturalmente la commedia pastorale di Ruzzante quindi le più avanzate commedie rinascimentali che anticipano il teatro moderno che poi arriverà a seconda metà del Cinquecento vedono protagonisti i compagni della calza non tanto come partecipanti ma come diciamo organizzatori all'interno molto spesso di banchetti perché le momarie e questi compagni questi spettacoli avvenivano all'interno dei banchetti spesso come intermezzi ecco arrivo a una conclusione di un minuto perché sto passando il tempo a me assegnato una conclusione brevissima in definitiva le fonti sulla cena della calza confermano due fatti fondamentali sulle compagnie della calza l'alta disponibilità finanziaria dei membri che assieme ai contatti cerimoniali diplomatici ne indica il collegamento non all'interno del patriziato della nobiltà veneziana Tucur ma nel suo settore più alto ed esclusivo e questo si trova assolutamente a livello italiano ed europeo ovunque e in secondo luogo il loro ruolo essenziale nell'organizzare sfarziose canzioni conviviali che come nel resto dell'Europa tardo-minivale e genici mentali hanno grandi risvolti di tipo cerimoniale ludico e culturale eppure sviluppi di tipo politico come tentare vediamo abbiamo visto le leggi di riunire una fazione di appunto di riunire diciamo delle clientele ma oltre al dipanarsi del discorso politico delle gerarchie interne alla nobiltà osservare la ritualità e ludicità tavola dei giovani aristocratici di Venezia ed Europa può aprire una finestra su altri fenomeni di quella che io chiamo la cultura sociale del rascimento dal rapporto fra giovani e gerantocrazia al potere al linguaggio d'accoglienza verso lo straniero dalla mentalità maschilista o meno dei giovani al loro ruolo verso nuove forme spettacolari e altro ancora soprattutto può farci intendere la circolazione di costumi cortesi fra corti principesche e realtà urbane anche di tipo repubblicano con governi repubblicani come Firenze e Venezia fra giovani elitta la ricerca di un linguaggio comune condivisibile e fruibile nello spirito ludico del tutto vitale per l'adolescenza grazie forse sì posso io allora invece di te va bene agli ordini niente abbiamo credo che finora abbiamo lavorato bene decisamente bene mi pare rimane forse qualche minuto per qualche domanda o qualche considerazione il tempo non è molto ma se ci fosse qualche intervento e se no potrei forse dire qualcosa io rapidissimo su un intervento importante mi è parso quello di McClendon nel quale c'è un problema di fondo il gioco e lo sport l'importanza della regola allora su questo forse converrà fare proprio un incontro per esaminare questi temi capendo per esempio il problema della regola perché non può esistere un gioco senza regola il gioco senza regola non c'è anche il bambino che tira la palla sul muro poi sa se la deve prendere così o se la deve prendere dopo che è rimbalzata ma questo è uno mi pare uno dei temi grossi che sono emersi ma i temi grossi sono credo molti a largo raggio io penso che così quella che mi è parsa la qualità dell'incontro si leghi anche al fatto che continuiamo a muoverci su temi culturali di frontiera cioè sono temi culturali che si stanno ormai affermando lentamente si stanno affermando diciamo molto spesso al livello più semplice quello epidermico quello della cosa di colore non al loro livello di indicatore di segnale di fenomeni sociali di grande importanza quindi godiamo in fondo di non dico più di una marginalità perché una marginalità poteva esserci vent'anni fa quando abbiamo cominciato a occuparci di queste cose ma ancora del privilegio di operare in un campo che è molto molto aperto io credo che a quest'ora siamo tutti un po' stanchi abbiamo tutti bisogno di prendere un po' di fiato quindi non tirerei oltre per le lunghe non so se sei d'accordo che possiamo concludere con queste considerazioni le considerazioni finale soprattutto è quella del compiacimento a questo punto sia del Tocatì che ha invitato la Fondazione Benetton a operare in questo ambito in questo ambito di un festival popolare apparentemente così lontano e devo dire alla Fondazione Benetton che molto volentieri ha accolto questo invito con questo convegno a livello scientifico alto e con una partecipazione al forum della cultura ludica che sarà invece domenica mi pare di carattere cioè domani di carattere molto più più semplice a questo punto devo soltanto ringraziare di cuore tutti quelli che sono intervenuti dandoci appuntamento a un prossimo giro grazie a tutti grazie grazie a tutti